Stiamo trasmettendo da www.letteralmente.info Letteralmente Studio 3 Cristina da Firenze Ricetta del cuore gratin di porri 1,5 kg di porri 1 scalogno Olio extravergine d'oliva 200 g di salsa di pomodoro 1 terzo di litro di panna da cucina Sale e peperoncino rosso in polvere Pulite con cura i porri Scartando la parte verde più coriacea Che potrete impiegare nella preparazione di una minestra Poi lavatele, sbollentateli per circa 5 minuti Fatele sgocciolare e asciugateli in un canovaccio pulito Prima di tagliarli a rondelle lunghe 4-5 cm Tritate lo scalogno Ponetelo in una teglia da forno con poco olio E lasciatelo su un fuoco moderato Fin quando diventi trasparente Togliete allora la teglia dal fuoco E coprite nel fondo con la salsa di pomodoro Disponendovi sopra i porri Versate la panna in un tegame a parte Importate alla ebollizione E riducetela a fuoco moderato In modo che si addensi Salate i porri Insaporitele con un pizzico di peperoncino E nappate con la panna Lasciando infine in forno prediscardato Per circa un quarto d'ora Sfornate il gratin Quando avrà assunto un bel colore E servitelo caldo Grazie a tutti Grazie a tutti